Buonasera, tra pochi minuti il telegiornale di Unica parleremo dell'attentato di Barcellona. Sono molti i lecchesi e i valtellinesi che vivono e lavorano nella città catalana. Sentiremo dalle loro voci le emozioni, le paure e le speranze a poche ore dalla tragedia su cui però prevale la voglia di ripartire e di non darla vinta al terrorismo. C'è un nuovo fronte di emergenza nell'ambito della sicurezza in montagna, ovvero il canyoning. Numerosi infatti gli interventi di soccorso che sono stati prestati nelle ultime settimane per portare aiuto a turisti ed escursionisti che si erano avventurati nella pratica del torrentismo. Sentiremo i consigli e le raccomandazioni da parte dell'esperto. Per la politica il segretario della Lega Salvini in vacanza a Borneo rilancia le parole d'ordine della Lega pronti a portare il cambiamento nel paese, dice, e a dare risposta alle domande dei cittadini. Referendum di autonomia una grande occasione, questione migranti, cambiamenti per ora solo a parole e non nei fatti. Bilancio della Sagra delle Sagre. 150.000 i visitatori che hanno affollato gli stand della più importante manifestazione fieristica valsassinese dell'estate. La Sagra ha fatto il pieno di turisti e non solo organizzatori già al lavoro per l'edizione 2018. A Valmadrera ha ripreso a funzionare il termovalorizzatore di Silea fuoriuso da alcune settimane dopo la rottura dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Entro settembre l'impianto sarà di nuovo in funzione al 100%. Per lo sport la nuova straordinaria impresa di Leo Callone, 72 anni ma ancora tanta voglia di nuotare e parleremo anche della tappa in Alta Valtellina a Bormio del trofeo Autotorino Golf Challenge promosso da Cancro Primo Aiuto. A tra poco.